Un fatto davvero insolito, quello accaduto a Campobasso nel Consiglio Comunale, quando tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza hanno voluto, accogliendo la proposta di uno di loro che siede nei banchi dell'opposizione, elaborare quello che è diventato il Natale sospeso 2020. Un gesto di forte solidarietà per i cittadini più bisognosi che possono trovare un aiuto isperato in un semplice luogo, una bacheca posta nella villetta prospicente del municipio Villa Musenga, dove le persone sensibili pongono dei biglietti, dei fogli in cui offrono qualcosa, dei beni, un pensiero, forse un lavoro, qualunque cosa ritengano in grado di essere di supporto per qualcuno. Un piccolo grande aiuto perché le feste di Natale siano quanto meno più serene. I messaggi di dono nella bacheca sospesa sono liberi. Ciascun donante compila uno o più biglietti indicando l'oggetto messo a disposizione e i riferimenti di contatto, numero di telefono, cellulare, email o quanto altro. Messaggi che sono a disposizione di chiunque ritenga a propria coscienza di averne bisogno, procedendo in autonomia a condattare la persona che dona. Intanto resta attiva la raccolta fondi tramite bonifico bancario.